Ciao a tutti e benvenuti, adesso andiamo a vedere le ultimissime novità di MIT che continua a cambiare cambia sempre, non vi preoccupate, non sono tantissime, sono poche ma sono molto carine alcune forse molto importanti, andiamo a vederle insieme animata di MIT e andiamo a vedere subito che cos'è che è cambiato possiamo mettere un nickname in questo caso di prova e accediamo alla nostra stanza lasciate stare questo che è il nostro bellissimo MIT ATTENDANCE lo mettiamo un po' più in alto, lo spostiamo un pochino e MIT ATTENDANCE che serve per prendere le presenze, magari ne parliamo un attimo anche nel video oppure alla fine potete scegliere come vedete lo sfondo questo è uno sfondo di MIT stesso che ho scelto per questo video andiamo a partecipare alla stanza e vediamo subito una cosa allora, intanto è cambiata la risoluzione, ve ne siete già accorti ma soprattutto la prima cosa che nasce spontaneo andare a guardare è la manina qui in basso a destra eccola qui questa qui è l'alzata di mano finalmente promessa da Google da un po' di tempo e che alla fine è arrivata cioè non abbiamo più bisogno di estensioni particolari per far sì che gli alunni alzino la mano e prenotino come in classe il loro voler esprimere un concetto un parere, una domanda, qualsiasi cosa ma basterà loro cliccare su questo tasto e noi sentiremo un suono questo suono ovviamente è un dip vedremo la manina sullo schermino del ragazzo che l'ha alzata diciamo che il primo giorno è stato un po' un delirio, un gioco tutti che schiacciavano la manina non è andata molto bene penso che con il tempo capiranno forse anche grazie a noi l'uso che ne debbano fare vedete che adesso la mano è alzata e se rimane così quindi sullo schermo di chi l'ha alzata in quel momento e l'insegnante può vedere chi è che ha la mano alzata rischiacciandola ovviamente la mano viene abbassata questa è la prima funzione forse la più importante di tutte per quanto riguarda le novità assolute che Meet continua a darci questa icona qui non la tenete in considerazione perché fa sempre parte della mia estensione che è questa virgoletta verde che vedete qui in alto che è Meet Attendance serve per prendere le presenze all'interno della classe vi comparirà questa schermata potete dare il nome alla classe e vi compariranno tutti i nomi dei presenti potete salvare il file in Excel o in HTML avete l'ora di ingresso e l'ora di uscita e nel caso in cui c'è una disconnessione e un riingresso anche l'ora di reingresso e l'ora di riuscita tutto questo sul file però HTML non sul file CSV ogni volta che poi avete bisogno di cancellare la lista perché resta qui in memoria dovete andare su la cancella che è questa icona con il meno bianco e rosso la trovo Meet Attendance un'app molto cabina per capirci andiamo a vedere su quale delle estensioni dobbiamo andare digitate Web Chrome Store e vi porterà direttamente allo store di Google per quanto riguarda le estensioni se scrivete Meet Attendance vedete che compagno subito il suggerimento non dovete scaricare questa che vedete qui ma questo Meet Attendance questo con questa icona ok questo Meet Attendance vi restituirà un foglio presenza è veramente molto molto interessante possiamo andarlo a vedere intanto c'è un minimo di uso questo per esempio è il file HTML che vi produrrà vedete che ci sono dei buchi significa che in questi buchi l'alunno è uscito ed è rientrato per problemi personali per problemi di connessione o altro e quindi è una presenza molto importante che ci fa capire anche quanto i ragazzi stanno letteralmente all'interno del nostro Meet e seguano magari la video lezione altra novità di Meet questa qui è una novità un pochino a metà per coloro che magari ancora non avevano il cambio sfondo come vedete alle mie spalle è proprio questa finalmente è arrivato il cambio sfondo anche per coloro che come me erano possessori di un MacBook Air quindi non riuscivamo a fare ancora il cambio sfondo ho sentito molti che su Facebook hanno chiesto come mai io non riesco credo sia solo una questione di tempo e di hardware che avete pian piano Google sicuramente lo farà per tutti diciamo che quando questo arriverà sui dispositivi mobili possiamo dire che sarà molto probabilmente un'opzione disponibile per tutti lo sfondo ovviamente funziona solo con una persona e funziona solo se non ci muoviamo troppo velocemente infatti basta muoversi un po' di più che vedete che compare il muro alle mie spalle e non riesce a fare questo perché per fare un ottimo effetto per uno sfondo di una ripresa bisogna avere uno sfondo verde o blu come magari molti di voi già sanno andando a cliccare sul cambio sfondo abbiamo la sfocatura leggera e questo ci fa già intravedere che il muro alle mie spalle in realtà è giallo una sfocatura più pesante che può essere qualcosa di molto importante in merito alla privacy e poi tutta una serie di sfondi che possiamo andare a cambiare vedete io avevo usato questo ma possiamo usare tutta una serie di sfondi assolutamente interessanti vedete che il cambio sfondo funziona alla perfezione altra novità in realtà è un inserimento che riguarda sempre i controlli dell'amministratore della stanza l'accesso rapido la condivisione degli schermi e i messaggi della chat l'avevo parlato già nell'altro video questa volta li troviamo anche cliccando sulle persone qui in alto abbiamo sia la possibilità di aggiungere persone che ancora non sono entrate al Meet o che magari abbiamo digitato invitato in una stanza di Meet con un nome, una mail sbagliata possiamo reinvitarli direttamente da questo tasto ma soprattutto possiamo andare sui controlli dell'organizzatore e chiudere subito quello che ci serve chiudere può addirittura visualizzarle tutte come al solito abbiamo l'audio, abbiamo il video abbiamo tutti i controlli di cui abbiamo bisogno un'altra cosa che possiamo andare a fare è quella della risoluzione l'altra volta non ne abbiamo parlato nel video che è la risoluzione dello schermo come vedete in questo momento io sto trasmettendo e il mio video rispetto al precedente è diventato un po' più grosso questo perché? perché la risoluzione predefinita dimite a 360 pixel se volete una risoluzione maggiore e vedete che c'è la differenza tra la soluzione in invio e la soluzione in ricezione perché questo riguarda tutti i modem invio e ricezione dei dati basta andarla a settare a cambiare in alta e vedrete che ora la mia immagine si sarà rimpiccolita e sarà molto più definita ecco qua ovviamente questo rallenta molto il cambio di sfondo quindi se avete vedete che alle mie spalle inizia a comparire quindi se volete uno sfondo e volete una certa privacy vi consiglio di mantenere la risoluzione a 360 a meno che non abbiate computer di un certo tipo e di un certo livello credo che per queste nuove funzioni e per oggi sia tutto se avete domande mi raccomando fatele sui commenti sul video di YouTube mettete un mi piace iscrivetevi al canale perché ci saranno tante novità in arrivo credo MIT continuerà a sorprenderci e ad aiutarci perché in questo mondo ci sta dando una grande mano grazie a tutti e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti